quali sono le caratteristiche di carvaglio che temi di più e soprattutto cosa temi più di questo match no e cosa deve temere carvaglio di ti spiego ti spiego quando stai ad alto livello non è un fatto che uno teme o non teme sai i pregi del tuo avversario quindi sai che logicamente lui va e ti vuole mettere knock out come lo voglio mettere io so che lui non so lo sanno tutti ma sono consapevole che lui è molto bravo con le gambe ma io sono molto più efficace e molto più forte con le braccia quindi sarà un match che deve essere studiato il primo 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 o secondo round perché ricordo sono cinque round da cinque minuti sono tanti e devo stare attento all'inizio per capire come si muove e poi ha un'altra cosa che lui tra virgolette io odio quelli che si muovono tanto che non cercano la battaglia che si muovono tanto io sono uno più che cerca l'impatto già da subito ma questo l'ho allenato molto in america quindi mi hanno messo spari in partner che tutto il tempo si muovevano una delle prime volte ho gridato perché non ce la facevo più perché gridavo dicevo fermate non ci fanno a cazzotti non scappa non è atletica si poi quello si è fermato ho capito mi fermo ha detto fanno a cazzotti e quindi però ho iniziato ad avere pazienza quindi gli ultimi sparing li ho fatti molto più in modo più intelligente e quello è quello che dà più fastidio e poi calci e ginocchiate è il suo forte e poi tocca dire la verità è il campione del mondo lo difende già da molte volte quindi ha molte qualità io non sono preparato su tutto alessio ci saranno tutti i più grandi protagonisti da kickboxing e mma in questo sul ring e sulla gabbia però anche sugli spalti ci sarà un parterre d'eccezione perché cito alcuni personaggi che sono attesi l'ex lottatrice attrice hollywoodiana gina carano poi ci saranno martin castro giovanni che insomma spero verrà se dei grandi amici martin non sai che è successo no ti spiego che è successo io non posso posso mandare l'audio su whatsapp sennò e martin lo rovino non sai le parolacce che ha detto nel senso tra virgolette no perché il 9 dicembre capita la finale di tossiche vales e quindi non può venire e quindi è impazzito sarà lì col pensiero con l'energia positiva me la manderà sempre e adesso ha saputo che 9 dicembre lui dovrà essere per forza lì poi ci saranno probabilmente anche l'audio bisico con il quale tu tra poco uscirai con una commedia al cinema e l'attore luca argentero che è un grande grandissimo partito di mma sì forse viene anche che un mio amico alessandro borghi vaporitis branciamore con il quale anche faremo sì io ho già fatto adesso ci arriviamo sì te lo prendiamo alcuno c'è un idolo anche dello sport un idolo un tuo idolo sportivo sì ecco anche del passato che vorresti lì sugli spalti io ti spiego io ce n'ho tanti tanti nel senso che ognuno mi ha dato tantissimo quello che più di tutti che io guardo che non è guardo che sono due bebevio e zanardi ma penso che ci hanno la resilienza nel dna ci hanno quello che dovrebbe per me dovrebbero studiare a scuola settato di tutto perché li vedi sempre col sorriso e li vedi sempre pronti a mettersi in sfida su ogni cosa e quindi è logico che loro sono molto impegnati però sarebbe una carica in più averli lì no come tifoseria ma io prendo spunti da da moltissimi quindi loro ci ho citato quelli che io stimola veramente tanto e molte volte li cerco di imitarli che sempre che c'hanno sempre quel sorriso quindi non mi succede qualcosa dico non è successo niente tra l'altro alessio il l'octacon bellator che ci sarà adesso a firenze in realtà diciamo anticipa quello che poi sarà anche un evento che ci sarà anche la prossima estate perché poi arriverà anche a roma giusto sì da torino ci stiamo avvicinando no era il mio sogno e tramite octano tramite bellator si sta realizzando questo sogno spero di difendere il 7 luglio qui al centrale sarà centrale del tennis il titolo mondiale comunque sia il 7 luglio noi staremo qui e ci stiamo avvicinando e quindi i miei tifosi che io ce ne ho tantissimi qua a roma il 7 luglio avranno la possibilità di vedermi dal vivo qua in casa mia sarà sicuramente un evento sold out dai tutti gli eventi che abbia tutti gli eventi qui il 7 luglio io non so che succede me levo le mani non c'ho responsabilità di niente grazie grazie